Allora, Tiziano... Allora, Tiziano, com'è il gioco? Eccolo, Tiziano! Tiziano ci prova con Renata addirittura! Tiziano, Renata è parte della famiglia, non vale, non fa attacca, eh! Oh, la foto deve essere sempre bella! Allora, Renata è con le porte, tua sorella, quindi lascia a perdere! Lascia a perdere! Ho trovato un gatti, Pedro! Guarda che c'è questa! Oh, ho! 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 Tiziano! 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 No, è una rete più limitiva! Grazie a Bens! 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 Questa è la vostra musica, non è stata l'avanti, non è stata l'avanti, non è stata il punto di ascolto! Tiziano! Tiziano! Tiziano, risponde a questa domanda! Io ho sentato... Risponde a Bens! Il miglior set per me è tutta Italia. Ma non era di lusso? Piano! Piano! Che cosa ne pensi della fame del mondo? Penso che se a Bricare cominciasse a lavorare, a zappare un po' la terra. E nel fatto che bruci i batter? Quello è una ruota che gira. Questi batter qua storti devono lavorare. Quante volte hai bruciato Martella? Quante volte hai bruciato Martella? Martella si spaggia, ma non lo so. E' comunque, si spaggia comunque. Questa ruota che gira, gira male. Fai così, dagli 100 dollari e va bene così. Non li voglio, non li voglio. Gassi è top. Ultima dichiarazione. Sarà una fase fatta. Aspetta, 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 aspetta. Non si brucia più come una volta. Vero, vero. Adesso, bisogna, bisogna, sono gratuiti. E' vero, dici sì, eh sì. E devi caratteri 10% del cash. Eh no, 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 no. E' timido, è timido. E' 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 timido. Grazie a tutti